L'Abruzzo varca la soglia psicologica dei 10.000 casi complessivi di positività al covid-19. Dall'inizio dell'emergenza le 428 nuove diagnosi di coronavirus nelle ultime 24 ore, aumento in lieve flessione rispetto a ieri, 482, portano il totale a 10.120. I casi odierni sono riscontrati su un numero di tamponi processati, anche questo in flessione 3.303 rispetto ai 3.710 di ieri. Il potenzialmente invariato sfiora il 13% dei nuovi casi, 183 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 70, meno 5 rispetto a ieri, di cui 30 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 9 in provincia di Chieti e 27 in provincia di Teramo. Il bilancio complessivo dei pazienti deceduti è di 542, poiché si registrano due nuove vittime del contagio, un 71enne della provincia di Teramo ed una 83enne della provincia dell'Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.764 dimessi guariti, più 74 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5.796, più 352. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 283.894 test. 355 pazienti, più 24 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 27 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 5.414 più 327 sono in isolamento domiciliare. Dell'aumento odierno 189 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 66 in provincia di Chieti, 38 in provincia di Pescara, 104 in provincia di Teramo, 7 fuori regione e per 24 sono in corso verifiche sulla provenienza. La prepotente crescita dei numeri negli ultimi giorni si evidenzia anche dal grafico che espone le variazioni rispetto a una settimana fa. I casi positivi sono aumentati di 2.777, quasi 400 al giorno. I decessi sono aumentati di 39, un dato che uscilla tra i 5 e i 6 giornalieri. Si conferma con ulteriore evidenza come le province più colpite dalla seconda ondata di contagi sono quella dell'Aquila con più 1.050 casi e Teramo più 898. Decisamente indietro nel prospetto settimanale le province di Chieti, 366, e Pescara, 347. Con i dati di quest'ultima settimana l'Aquila diventa la provincia con più casi dall'inizio dell'emergenza con 2.811, poi Pescara 2.703, Teramo che si avvicina 2.486, mentre resta sotto quota 2.000 a Chieti. Salgono i ricoveri ospedalieri, più 11 in terapia intensiva, più 127 non in terapia intensiva, più 2.129 i positivi in isolamento domiciliare, più 2.267 gli attualmente positivi.